Il CRT riscrive la sua carta d'identità consolidando le attività di ricerca scientifica tramite tre importanti seminari di carattere nazionale e internazionale svolti in collaborazione con le maggiori università. I scopi sono quelli di portare a confronto con la comunità internazionale scientifica le attività di ricerca che vengono fatte all'interno del centro. Occorre confrontarsi perché la ricerca possa avere un'effettiva e concreta applicabilità per cui non è fine a se stessa la ricerca ma a noi serve esclusivamente per migliorare la qualità dei processi e delle prestazioni nei confronti dei pazienti. I seminari si svilupperanno sia all'interno del presidio della Guccia ma anche andremo nelle altre zone, nelle altre aree interessate sia all'interno dell'area vasta sia all'interno dei vari altri soggetti che partecipano alle ricerche con noi perché il confronto deve essere continuo. Il primo seminario si è svolto oggi in collaborazione con l'Università di Oxford per l'applicazione della Oxford Cognitive Screen, uno strumento neuropsicologico per studiare la compromissione delle funzioni cognitive nella fase acuta dell'ictus. Il centro è uscito dalla fase di sperimentazione, è diventato a pieno titolo un centro di riferimento per tutta l'area vasta ma sicuramente anche per la regione toscana perché all'interno del centro vengono risolti, affrontati quasi il 35% in tutti i casi che si presentano in Toscana per quanto riguarda le gravi celebre regioni acquisite, mentre vengono fatte tante altre attività anche del carattere est-ospedaliero fino all'ambulatoriale per quanto riguarda il distretto del Valdarno. Grazie a tutti.